Il 68 è stato un fenomeno sociale, politico, di costume molto complesso e articolato che ha riguardato praticamente tutto il mondo. Qual è l'immagine chiave del 68 Spezzino? Alla Spezia c'è una forte mobilizzazione degli studenti, ma anche una città operaia, quindi anche una forte mobilizzazione degli operai. Entrambi vogliono più libertà contro l'autoritarismo, che allora era molto forte, la scuola e la fabbrica erano delle specie di caserme, diciamo. E poi c'era la spinta per la solidarietà, contro le ingiustizie sociali, contro le diseguaglianze di classe, come si diceva allora, e una forte spinta per l'umanesimo. Era proprio una ribellione morale, umanistica, contro l'allenazione, contro la solitudine dell'uomo moderno. L'anima vera degli inizi del 68 fu questa, una grande ribellione etica, morale per una società più giusta e più libera, che vide i protagonisti, gli studenti, gli operai, ma anche per esempio le donne. Le donne sono le altre protagoniste, allora più per la parità che per la differenza. Qual è stata la ricerca proprio storica che sta dietro la scrittura di queste pagine? Noi siamo partiti pensando di fare un libro sul biennio 1968-1969, però poi ci siamo subito resi conto che questo biennio era in realtà il frutto degli anni precedenti. Non era un fiore che spuntava all'improvviso, era qualcosa che aveva le radici nel passato. Quindi abbiamo fatto un libro sugli anni 60 alla Spezia, in due volumi. L'abbiamo costruito con un intreccio tra testimonianze, 330 persone che hanno dato il loro contributo, ricerca negli archivi naturalmente e immagini. Ecco, c'è la forza delle fotografie che sono tantissime, tutte inedite, molto belle. C'è la forza di queste fotografie che ti aiutano a raccontare, a pensare, a rievocare il 68. Quindi è un intreccio tra testimonianze, archivi e immagini. E' un uomo di sinistra, tanti intellettuali progressisti dicono che ci sarebbe bisogno di un nuovo 68. Al di là di quello che successe dopo fu una grande ribellione non violenta. Don Milani non violento, Aldo Capitini non violento, Rudy Dusch della lunga marcia nelle istituzioni. E' questo spirito del 68, etico, morale, non violento, umanistico, che va recuperato, che è un grande lascito per l'oggi.